Allora, siamo quasi alla fine di agosto e insieme a voi volevo fare un piccolo recap molto rapido di quelle che sono le principali piattaforme, soprattutto alla luce di due cose fondamentali, l'uscita dei 9000 che in pratica non ha cambiato quasi niente, non ha spostato il mercato e anche le prime indiscrezioni sui futuri Intel, però lo vediamo con calma. Ma prima di iniziare e di andare proprio nel club del video vi ricordo due cose importanti. La prima è che c'è l'Amazon Gaming Week che è un evento minore di offerte di cui fondamentalmente, so proprio sincero, non è che ci ho visto grandi prodotti e non è che ce ne frega più di tanto, parliamo proprio chiaramente, però è un'ottima occasione perché? Perché potete entrare nei canali offerte e dare uno sguardo a quelle che sono i principali prodotti di questi due o tre giorni. Vi ricordo che i canali offerte sono un importante strumento per tenere d'occhio prodotti e prezzi, perché alla fine poi i migliori acquisti non è che si fanno solo in questi periodi di sconti, ma li si fanno sempre quando avete degli strumenti utili come il nostro canale offerte che vi segnala in continuazione i cali di prezzo sulle componenti. Seconda cosa importante, vi ricordo che se avete bisogno di una chiave di Windows, in descrizione c'è U-Keyes, una delle principali piattaforme più convenienti dove potete acquistare ad esempio chiavi di Windows 10 che grazie al codice sconto mio personale MHD potete pagare appena 13 euro. C'è anche la versione Pro di Windows 10 che costa pochi euro in più e che vi permettono comunque in generale di passare automaticamente a Windows 11 tramite l'update. Se invece volete direttamente Windows 11 ci sono anche le chiavi di Windows 11 in offerta e perché no pacchetti Office come Office Professional Plus 2016 che vi viene a costare appena 26-27 euro. E' semplicissimo acquistare, mettete il prodotto nel carrello, inserite il codice sconto nella sezione coupon, pagate con uno dei metodi di pagamento che vi viene proposti e la chiave di attivazione vi arriva direttamente nel vostro account. La inserite ed il gioco è fatto, quindi avete Windows attivo, avete Office, se vi interessa tutti i link li trovate giù in descrizione. Allora, quando parliamo di PC economici o di piattaforme più convenienti parliamo di PC diciamo sui 1000 euro o comunque di piattaforme non costosissime. E in questo momento i processori da tenere sott'occhio sono ovviamente due da acquistare, il 7600 che non so perché su Amazon.it costa di più, un po' tanti prodotti in questo momento costano di più e quindi ve lo segnalo da Amazon Germania. E vi ricordo, apro una piccola parentesi, che acquistare da Amazon Germania o da Amazon Stranieri non cambia praticamente nulla. Vi loggate con le stesse identiche credenziali che avete su Amazon.it, tutto quello che pagate in più è un piccolo adeguamento IVA e ovviamente le spese di spedizione. Ma nonostante questo il prodotto vi viene a fare, come in questo caso, un meno di Amazon.it. Se comprate più prodotti, tipo un'intera build, le spese di spedizione le pagate una volta, non è che pagate 10 euro, 9 euro su ogni prodotto e l'adeguamento IVA ovviamente è abbastanza minimo. Il Ryzen 7600 Amazon D costa 164 euro, spese di spedizione e adeguamento IVA viene a fare sotto le 180 euro abbondanti. Ma c'è anche il 7500F da AliExpress, che è un'ottima alternativa perché costa ancora meno per chi vuole risparmiare quei 20-30 euro. Però ricordatevi che state comprando un PC, un processore, scusatemi, 3i, quindi non è un prodotto fatto e finito di AMD in scatolato. Vi arriva il processore praticamente sfuso, così avete solo la garanzia di AliExpress e ovviamente nel caso del venditore. E questi due principali processori sono i due migliori acquisti che potete fare in questo preciso momento. Potete vedere come in realtà il 7600 in giro sugli shop si trovi un po' a dei prezzi più elevati rispetto che ad Amazon D. E vedete quindi come una ipotetica piattaforma, diciamo economica, ok, quindi senza andare proprio su schede matri o componenti di fascia più alta, con un 7600 o un 7500F, un kit di RAM da 32GB, CL32-6000MHz e una B650M, vi venga a fare intorno alle 450 euro. Poi se andate come in questo caso vi ho fatto una intera build su Amazon D, vedete che risparmiate ulteriormente qualcosina con il 7600, una B650M, delle RAM comunque le 6000MHz CL36 di Crucial e tutto il resto della build SSD, un alimentatore e una 4060Ti, vi viene a fare all'incirca 950 euro, che è un ottimo prezzo a cui adeguamento IVA e spedizioni vi viene a fare 1000 euro. Quindi voglio dire per una build piuttosto economica sulla piattaforma M5 abbiamo tranquillamente margine. E per chi vuole spendere ancora di meno si compra una console. No, sto scherzando. Ci sono comunque ancora, diciamo, dei margini per poter prendere qualcosina, come una build, per esempio, in questo caso io vi ho fatto uno screen di una build AM4, però ragazzi, sinceramente, siamo abbastanza giù come livello di build, perché un 5600 con la solita B550, le RAM, tutta roba economica e magari volendo una 6650XT, vi viene a fare intorno alle 660, 670, 700 euro. Quindi se volete andare su una build, voglio dire, con una piattaforma più nuova, con le DDR5, con la possibilità di aggiornare qualcosina, con una scheda video superiore, la 4060Ti, voglio dire, a 370 euro, è una buona scelta per giocare un po' a tutto, sicuramente 1000 euro vi conviene. Altrimenti, volete cambiare la scheda video, non vi piace la 4060Ti, volete qualcosa di meglio dal punto di vista della rasterizzazione, c'è ancora la 6800, o ci sono anche le 7700XT che si iniziano a trovare intorno alle 400 euro, che comunque vi costa relativamente 20 euro in più, fate una build ottima. Se volete proprio andare giù, è 650 euro, non lo so quanto vi conviene, ma sinceramente io questi soldi non li spenderei per una build in questo momento AM4, ex novo, ecco, sinceramente, se magari su una build del genere ci volete andare a mettere, anziché una 6600, 50XT, una 4060, la build viene a fare intorno alle 700-750 euro, per me non è una buona alternativa sul nuovo in questo preciso istante. Mentre se invece parliamo di build già di una fascia più alta, il terzo processore da tenere in considerazione, oltre al 7600, al 7500F più economico, è ovviamente il 7800X3D, quindi si passa da una build da circa 1000 euro, a una build che supera anche i 1500 euro, dove un 7800X3D, voi lo potete abbinare tranquillamente ad una B650, anche di buona fascia come la TAF, e con le RAM, comunque buone RAM, 6000 MHz, CL30, un SSD NVMe, in questo caso in leggero sconto, da un Tera Gen 4, ho messo un Thermalright economico con un case, anche in questo caso non chissà quanto costoso, un buon alimentatore, una 40-70 Super, questo PC fatto su Amazon viene a fare sui 1650 euro. Ecco che tra un PC del genere e il PC da 1000 euro, voi potreste anche scegliere di andare su un processore un po' più economico, ma se voi considerate per esempio altri shop come può essere qualche sito, BPM, eccetera, eccetera, vedete che in realtà potreste anche scendere di un centinaio di euro, perché una 40-70 Super la pagate sotto le 600 euro, lo stesso 7800X3D lo andreste a pagare comunque una trentina di euro abbondante, se non anche una quarantina di euro in meno, e quindi vedete che in realtà siamo intorno ai 1500 euro. Prendendo un processore un po', diciamo, minore, e schede madri di fascia leggermente minore, andate poi su tutta la fascia tra le 1300 e le 1400 fino poi alle 1500. Quindi è questo quello che voi dovreste in questo momento tenere in considerazione per un eventuale acquisto, ovvero o il 7600 sulla fascia medio-bassa, il 7500F proprio sulla prima fascia, andando ancora giù, si va di AM4, ma in quel caso non lasciamo proprio perdere, salire di fascia Intel a mio avviso in questo momento non conviene minimamente, si va direttamente di 7800X3D. Ci sono state delle importanti indiscrezioni, sono usciti i primi bench su Geekbench, su questi, diciamo, test sintetici qua, dei futuri Intel, quale il nuovo, diciamo, Core Ultra 9, che sarebbe l'i9 della futura generazione, ma voi sapete che Intel cambierà nome, il 285K, ma ovviamente parliamo di un top di gamma, il motivo per il quale io in questo momento non vi ho, diciamo, fatto previsioni su quella che potrebbe essere una build enthusiast. Perché? Perché effettivamente lì ci sarebbe un attimo da guardare. Io dubito fortemente che un i9 di futura gen possa uscire al prezzo sul quale voi oggi comprate un 7800X3D, o, diciamo, dubbi potrebbe anche essere un processore che va meglio effettivamente del 7800X3D, noi non lo possiamo sapere, ma difficilmente io lo vedrò a 400€. È molto rischioso pensare che un Core Ultra 7, quindi un i7 della futura generazione, avrà, voglio dire, le performance, stando a quello che vedo, di un 7800X3D in gaming. Stiamo parlando del gaming, ragazzi, non stiamo parlando di PC per la produttività o in multicore, però, voglio dire, penso che in questo momento, e anche una volta usciti i nuovi Intel, con schede madri Z890, che costeranno un bel po', con i nuovi Core Ultra, sia 9 che 7, che secondo me non so se ci arrivano alle prestazioni degli X3D, ma anche se, voglio dire, un Ultra 9 ci arriva, costerà molto di più, io penso che in questo momento, una build a 1500-16 basata su 7800X3D, difficilmente sarà battuta in un futuro immediato da una build Intel, quindi, io mi riservo comunque, in questo momento, di aspettare ulteriori indiscrezioni, però, sono quasi sicuro al 99%, che una build del genere, fatta con un Core Ultra 9, vi verrà a fare sotto le 2000€, se non qualcosa, diciamo, in meno, con un Core Ultra 7, ed è tutto da vedere, quindi, io vi lascio in descrizione una serie di build, fino ad una fascia massima, che è il 1500-1600€. Poi, per le build top di gamma, e per eventuali build Intel, su queste fasce medie, io vi rimando a ottobre, quando poi usciranno i Core Ultra, che staremo a vedere. Io penso che un Ultra 7 top di gamma, cioè, lo vedremo a oltre 350-400€, quindi, stiamo a vedere, ok? Ditemi voi cosa ne pensate, come sempre, giù nei commenti, e io vi ringrazio di essere stati qui, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!